Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Beh, è giunta aria fredda, anche piuttosto gelida. Il nocciolo più crudo ha colpito comunque il centro Italia. Ma il freddo ha raggiunto anche il nostro territorio, anche il nord-ovest, e quindi abbiamo avuto temperature piuttosto basse, invernali, come è normale che sia. D'altra parte siamo a dicembre, siamo a Natale, però il tempo è rimasto bello, tranquillo, quasi sempre. Con cielo sereno, cielo sereno previsto anche, guardate, nella giornata di mercoledì. Quindi una bella giornata, soleggiata, ma sempre piuttosto fredda. Attenzione, rigidi i valori minimi, valori anche al di sotto dello zero, ampiamente al di sotto dello zero, con valori compresi tra i meno 3 e i meno 7, meno 8 gradi centigradi. Di temperature massime, comprese tra i 2 gradi del Cuneese e gli 8-10 gradi, invece, delle zone in riva al mare, ovviamente in Liguria. Io, cari amici, ho concluso. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di settimana. Arrivederci.